Per molti anni la torre dell'orologio, usita in largo castello, ha scandito lo scorrere del tempo accompagnando la crescita e l'evoluzione della nostra città. Come dire, ha rappresentato l'emblema di Canicatti. E quanti di voi, avanti negli anni come me, ricorderanno i dodici rintocchi che stavano a significare che era mezzogiorno o il suono della sirena che ricordava erano le cinque del pomeriggio. Quel suono arrivava sì nelle campagne e per i contadini era il segnale di fare rientro a casa. Sono trascorsi diversi anni e le lancette della torre dell'orologio, di quel monumento antichissimo, sono rimaste ferme. L'amministrazione comunale in questi quasi dieci anni di governo non è stata in grado di riconsegnare alla città un patrimonio che gli appartiene di diritto. E dirsi che, carte alla mano perché noi, come Teleradio Canicatti, parliamo solo con quelle, c'era stato un nostro concittadino tale Francesco Luglio, il quale, desideroso di vedere tornare a funzionare nuovamente l'orologio della sua città, aveva scritto, era il 21 ottobre del 2013, alla ditta Trebbino di Uscio, comune in provincia di Genova, a cui di tasca proprio aveva inviato il motoriduttore Cruzet per la ricarica elettrica del peso motore di loro fabbricazione. L'azienda aveva risposto che la ditta francese non li fabbricava più e che per rimettere in funzione l'attuale macchina occorreva applicare alla stessa un nuovo sistema di carica del peso il cui costo, tra smontaggio e rimontaggio, si aggirava sui 3.000 euro. La ditta Trebbino aveva quindi consigliato, per un costo analogo, l'installazione di un orologio nuovo, totalmente automatico, dotato di cambio di ora legale e solare, automatico, per il quale non necessitava né manutenzione né regolazione e soprattutto privo di soleria per non disturbare. Ed è ancora che era corredato di su una ora, mezze, quarti, bimben, scuola, mezzodì e angelus, escludendo automaticamente la soneria diurno-notturna. Il signor Luglio, ricevuta nota di disposta, aveva riferito tutto al sindaco, sempre carte alla mano, il quale è in possesso della relativa documentazione e tanta in lui era la voglia di vedere tornare nuovamente a funzionare la torre dell'orologio che aveva addirittura detto al primo cittadino di essere disposto a versare di tasca propria la somma di 500 euro in modo tale da diminuire i costi a carico dell'amministrazione. Per tutta risposta gli viene detto che le casse del comune non potevano permetterselo. E tutto finì lì. Andate magari per curiosità a vedere da vicino come è ridotta la torre dell'orologio. Non solo quelle lancette sono ferme da anni, ma addirittura non sono stati effettuati interventi di manutenzione, né ordinaria né straordinaria. La torre infatti presenta vistose lesioni in diverse parti della struttura muraria, per le quali è necessario intervenire al più presto se non si vuole completamente e vederla sbriciolare al suolo. Cari assessori, forse dimenticate un vecchio detto che recita volere potere e voi non avete né voluto né potuto. Cosa avrebbero inciso sulle casse comunali 3.000 euro rispetto per esempio ai 9.000 che avete speso inutilmente a febbraio del 2014 per realizzare il carnevale? A proposito di carnevale, se la mente non mi inganna, così come pure quella dei cani cattinesi, a me pare che l'edizione del 2014 della Cermesse sia stata uno spreco di erano pubblico perché di carnevale noi non abbiamo visto traccia. Anzi, dopo anni di sacrifici avete avuto l'intelligenza di farlo morire e per di più lo avete anche sepolto. Se di intelligenza vogliamo parlare. Grazie. 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 Grazie.